Si obbedisci forzatamente sei schiavo, se volutamente sei un aiutante. Io sono Daniele Penna e questo è il salto quantico 2. Se obbedisci forzatamente sei schiavo, se obbedisci volontariamente sei un aiutante. Lo scriveva Publilio Siro, un drammaturgo romano. E' proprio degli aiutanti di cui ti voglio parlare in questo passo particolare del salto quantico. In quello precedente abbiamo compreso, e ci stiamo avvicinando, a una comprensione sempre maggiore dei due mondi, ovvero del mondo del visibile, quello in cui viviamo, e del mondo dell'invisibile, quello in cui anche viviamo ma che non vediamo, solo perché appunto invisibile. Sin dall'inizio dei tempi tutte le culture e tutti gli uomini sapevano dell'esistenza dei mondi invisibili, fino a che, come ho spiegato nel passo precedente, determinate religioni hanno cancellato un po', forzatamente, tutta una serie di conoscenze, di tradizioni, ma soprattutto di conoscenze specifiche, per ridurle a credi nel Dio che ti do io, che non vedi, e che ti giudica, e quindi faccio che ti dico io, perché sennò lui che non vedi ti giudica. In realtà il mondo invisibile è animato da tantissime altre forze, di cui poi scopriremo più avanti molto di più, perché andremo a lavorare su questo, ma senza preoccuparsi, non stiamo parlando di forze, demoni, quella è sempre la Chiesa che dice tutto questo. Sono forze intelligenti, come lo è la natura, come lo sono gli animali, come lo sono le emozioni, come parlavamo l'altra volta, che possono diventare intelligenti, senzienti e lavorare su un altro piano, cioè nel piano invisibile. Qualcuno tempo fa mi ha chiesto come vedi tu la nostra presenza in questo piano. Bene, la mia visione è come quella di quando vediamo un film o un'immagine in 3D, ma senza gli occhialini 3D, cioè senza gli occhiali 3D se tu vedessi un'immagine fatta per il 3D la vedresti sdoppiata, la vedresti un'immagine di un colore rosso e l'altra immagine di un colore blu, leggermente sovrapposte, ma si vede che sono sdoppiate, cioè sono due immagini uguali, quindi se fossi una foto in 3D vedresti me in rosso e me in blu leggermente sovrapposti. Che cosa succede? Che quando inforchiamo i nostri occhialetti 3D, magicamente quelle due immagini piatte, rosse e blu, diventano tridimensionali e diventano un tutt'uno. Bene, secondo me è la stessa cosa. Noi viviamo in un mondo in cui vediamo solo un'immagine, quella rossa, ipotetica e rossa, ma una delle due, e non vediamo la nostra immagine nel mondo invisibile, proprio perché è invisibile. Nel momento in cui uniremo queste due immagini, cioè nel momento in cui uniremo la nostra parte visibile con la nostra parte invisibile, la nostra parte visibile che vive in questo mondo terreno e la nostra parte invisibile che vive nel mondo invisibile, a quel punto saremo 3D, saremo un tutt'uno, saremo completi. Per unire la parte che vive nel mondo invisibile dobbiamo ricollegarci con la nostra anima. Questo è indubbio, perché la nostra anima è quella che agisce col mondo invisibile, e di questo non è difficile da comprendere anche per una mente razionale. Ognuno di noi ha vissuto degli incontri assurdi, delle sincronicità per la mente razionale impossibili, delle connessioni, degli incontri, dei casi che sono successi per caso, ma che sono serviti esattamente per farci evolvere, per farci capire, per farci trovare un lavoro, per fare tutta una serie di cose. Quindi si capisce che c'è qualche forza intelligente che si muove al di fuori di questo mondo visibile, per farci incontrare persone in questo mondo visibile, ma si muove da un'altra parte, perché questa intelligenza noi non la vediamo. E magari riesce a far incontrare persone davvero da parti del mondo diverse, in un momento specifico e particolare, perché ognuno serve incontrare quella persona, e poi magari le va allontanare perché ormai la missione è finita e se ne devono incontrare di altre, oppure ti fa capitare un incidente, oppure un rallentamento per evitare un incidente, oppure un per caso, per caso, incontri una persona che ti dà esattamente il lavoro che ti serve o ti risolve un problema. Insomma, di questi casi li abbiamo visti tutti. Possiamo dire che è un caso, oppure possiamo dire che è magia. Qualcuno diceva, puoi vivere la vita come se niente fosse magia, oppure puoi vivere una vita come se tutto fosse magia. Sta a noi la scelta se spiegare le cose razionalmente, come la società spesso vuole che noi facciamo, oppure spiegare tutto come se fossero magiche. Lo stesso Einstein disse, si entra nella magia quando razionalità e spiritualità si incontrano. Quindi anche i grandi lo sapevano. Abbiamo due piani. Abbiamo questo mondo terreno e l'altro mondo invisibile. Questo mondo razionale e quell'altro mondo spirituale. Così viene chiamato. O appunto noi lo chiameremo invisibile perché spirituale è un po' troppo legato alla Chiesa, ai dogmi, a tutto questo. Non stiamo facendo religione. Io sono l'opposto della religione. Quindi sono una persona estremamente atea e soprattutto estremamente pratica. E soprattutto tutto ciò che ti dico per essere passato da me deve essere passato attraverso degli enormi filtri razionali. Quindi tutto ciò che ti dirò nel salto quantico, visto che sto parlando alla mente, sarà estremamente razionale e logico, dove potrai fare tutte le ricerche che vorrai. E sarà proprio dal razionale logico che arriveremo all'invisibile, come probabilmente già ci sia arrivato, o ci arriverai sempre di più perché toccherai con mano quello che non si vede, o meglio sentirai quello che non si vede. Perché tra l'altro questa società si basa quasi esclusivamente sulla vista. Ed è stato fatto apposta. Prima si basava molto di più sul sentire, sulle sensazioni, sull'intuito. Dopo è diventata predominante la vista. Chi conosce la PNL sa che il canale visivo, soprattutto negli ultimi decenni o centenni, è diventato predominante, è molto più probabile trovare persone visive, cioè con il canale predominante che la vista. Perché viviamo in un mondo di immagine, viviamo in un mondo di televisione che si deve guardare, di telefonino che si deve guardare, di tutto che si deve guardare. Mentre è diverso ascoltare, molto più difficile, è diverso ancora di più sentire. Molto è difficile. Quindi andremo a toccare con mano ciò che non si vede. Bene, nel passo precedente abbiamo detto che uno dei mezzi più semplici per toccare con mano il mondo invisibile e per cominciare a unire la nostra anima con la nostra mente, il modo più semplice è il mondo dei sogni. Mondo dei sogni che avviene tutte le notti, ogni qualvolta ci addormentiamo, in cui l'anima manda su queste trasmissioni di sogni, circa 5 a notte, così insomma si dice, che passano attraverso il filtro dell'omino dei sogni. Attraverso questo poi noi dobbiamo in qualche modo interpretarli e nei passi successivi impareremo anche ad interpretarli. Ma prima di arrivare ad interpretarli, dobbiamo aprire il canale dei sogni, cioè noi dobbiamo avere materiale, tanto materiale, noi dobbiamo iniziare ad ascoltare la nostra anima, a sentire la nostra anima, a comprendere quello che ci sta, e soprattutto a ricordare quello che ci sta mandando tutte le sante notti, ogni qualvolta ci addormentiamo magari con un pisolino pomeridiano. Per fare questo dobbiamo usare qualche stratagemma, dobbiamo usare assolutamente qualche stratagemma, perché molti di noi, io per primo ero uno di questi, ha il canale dei sogni chiuso. O non sogna, o meglio, si sogna sempre, ma non si ricorda nulla. Io per anni non ho ricordato niente. Magicamente da quando abbiamo cominciato questa nuova via, i miei sogni sono partiti. Li vedo tutte le notti, pomeriggio, ogni istante. Posso, non ne ricordo ancora tutti e cinque, ma bene o male uno, due al giorno riesco a ricordarli e soprattutto cominciano ad esserci indicazioni molto importanti per la mia vita e per il mio futuro. Quindi, cosa fondamentale, dobbiamo aprire il canale dei sogni. Il primo modo che ho consigliato al gruppo degli apprendisti è stato quello di settare un'intenzione prima di andare a dormire. Cioè, prima di andare a dormire, le ultime cose che faccio nella mia testa sono quello di settare l'intenzione di voglio che questa notte mi arrivino sogni chiari e vividi. Chiari e vividi, non lucidi, sono due cose diverse. Chiari e vividi, usiamo i termini giusti. Chiari e vividi. E che li possa ricordare totalmente al mio risveglio. Voglio che questa notte mi arrivino sogni chiari e vividi e che li possa ricordare al mio risveglio. Ce la fissiamo in testa come frase e ce la teniamo prima di andare a dormire. Chiaro che a questa frase più avanti possiamo fare altre richieste, però ci arriviamo più avanti. Questo però è quello che noi facciamo in maniera razionale con la nostra testa. Qual è il problema di quando facciamo qualcosa con la nostra testa? Che deve superare i filtri della nostra testa. Cioè, il filtro razionale che può dire, ma sì, figura di non ricorderai niente. L'altro filtro razionale che dice, oddio, domani devi svegliare presto, magari non mi ricordo. L'altro filtro che dice, ma io non ho mai ricordato niente, non mi ricorderò niente. L'altro che dice, no, sono incapace, non ce la faccio. Quindi abbiamo tutta una serie di sovrastrutture, di credenze, di convinzioni, di parole, di frasi, di cose che abbiamo sentito, di cose che ci diciamo noi, che potrebbero inficiare la nostra intenzione. A quel punto abbiamo bisogno di aiutanti. Ricordiamoci, gli aiutanti, c'è bisogno sempre di aiutanti. Qualunque cosa facciamo, non si possono fare le cose da soli. Le cose da soli sono estremamente limitate. Questo vale sia nella vita reale, nel mondo visibile, che in quello invisibile. Quindi, a chi posso chiedere aiuto? Visto che devo muovermi nel mondo invisibile, visto che i sogni mi arrivano dal mondo invisibile, visto che la mia anima si muove nel mondo invisibile, ho bisogno di un aiutante del mondo invisibile. E quando iniziò il salto quantico, che era ancora in via sperimentale, su questo gruppo Telegram di apprendisti, non c'era ancora nessun video del salto quantico, semplicemente c'era un'idea di farlo. E cominciamo a fare degli esperimenti, esperimenti per settare un po' la comunicazione, che è quella che poi adesso sto ottenendo. In questi esperimenti, una delle prime cose che feci fu appunto questo, dissi alle persone che si erano inserite nel gruppo di apprendisti, dissi di settare l'intenzione, senza spiegare nulla e senza avere queste spiegazioni che sto dando adesso qui. Settare le intenzioni mentalmente e in più dissi, mentre lo fate mandate la stessa intenzione a questo simbolo qua, senza un nome, semplicemente questo simbolo. Io diedi questo simbolo e dite ok, prima di andare a dormire settate l'intenzione dicendo voglio avere dei sogni chiari e vividi e voglio ricordarli al risveglio. Allo stesso tempo, guardando il simbolo, ti chiedo di aiutarmi ad avere questa notte sogni chiari e vividi e di ricordarli al risveglio. E così fu. Così fu semplicemente usando questo aiutante, questo simbolo aiutante, le cose sono cominciate ad accadere. Le persone dal giorno dopo, meravigliate, che i sogni cominciavano ad aprirsi. Ovviamente non per tutti, ma per molti. Sul gruppo Telegram era ammesso solo parlare dei loro sogni e ci sono stati nei primi 3-4 giorni migliaia di messaggi dove parlavano dei loro sogni. Non solo sogni che non riuscivano a interpretare perché non hanno ancora, non avevano ancora le informazioni che sto dando adesso, ma magicamente si aprivano. Non solo si aprivano, ma sempre di più si notava come non chiedevano più a loro stessi, ma chiedevano sempre di più a questo simbolo, a cui poi diedi anche un nome. Tieris è la nostra, perché è femminile, è la nostra aiutante del mondo invisibile per farci ricordare i sogni e per darci consapevolezze. Tieris, sogni e consapevolezze è la nostra aiutante per il mondo invisibile. Non voglio dirti altro. Non devo dirti chi è, come arriva, perché, dove. Non è ancora il caso. Non serve. La cosa interessante è che non dissi niente neanche nel gruppo e di giorno in giorno le persone cominciarono a innanzitutto chiedere sempre di più e poi feci, spiegai che cosa accadeva qui in Thailandia. Qui in Thailandia la regione predominante è il buddismo. Io ho sempre detto che la Thailandia, secondo me, è uno dei posti migliori dove vivere, dove l'energia è diversa, non si capisce perché. Poi l'ho capito. Però è assolutamente diversa da tutto il sud-est asiatico, neanche a dirlo rispetto all'Europa che è un altro mondo. Poi ho capito perché la Thailandia era particolare. La Thailandia ha delle tradizioni molto forti e sono delle tradizioni di offerte. Cosa fanno? In Thailandia ci sono, chi è venuto lo sa, ci sono tantissimi baracchini, negozi di qualunque tipo che danno, che permettono di acquistare dei prodotti che sono delle offerte per i templi o per i monaci. Prodotti che sono fiori, sono incensi, sono come questi che vedi qui dietro, fiori veri, fiori finti, incensi di qualunque tipo, roba da mangiare o da bere, che possono essere dati sia ai monaci la mattina alle sette, e a loro si dà in genere cibo perché è quello che mangiano, ma ai tempietti o agli alberi sacri o a qualunque cosa che loro reputano sacro, offrono costantemente qualcosa. Tutti i santi giorni. Non solo, in ogni casa c'è un tempietto, in ogni negozio c'è un tempietto, un negozio non apre se prima non è stata fatta l'offerta fuori, il che potrebbe essere due incensi, un bicchierino d'acqua e qualche cosa, e la preghiera che loro fanno per di buon auspicio, perché più dai più ricevi, probabilmente. Ecco, in questo caso questa è una cosa basata sulle offerte, non sui sacrifici. Attenzione, c'è una grossa differenza dal sacrificio che richiede la religione, la cattolica ad esempio, il sacrificio di andare in chiesa, il sacrificio di sempre sacrificare per qualcosa, addirittura a Pasqua si sacrifica l'agnello, che proprio squartare non è proprio carino. Mentre qui sono offerte, c'è una grande differenza tra sacrificare e offrire. L'offerta si fa con piacere, con volontà, con umiltà, proprio con piacere. Ebbene, ho spiegato questo nel gruppo, mentre spiegavo, appunto, mentre già iniziavano ad avere dei risultati e facciamo vedere quello che ho fatto io. Questo è il mio, potremmo chiamarlo tempietto, di offerte dove c'è dell'acqua che viene cambiata tutti i giorni, dove ci sono degli incensi che vengono bruciati costantemente, candele, fiori, che poi ce ne sono alcuni finti, alcuni veri, che la mattina e il pomeriggio acquisto per cambiarli quotidianamente. Non metto del cibo, perché qui siano le formiche ci si mangeranno, ma metto dell'acqua e tutto quello che posso. Che per una persona razionale come me può sembrare assurdo, però nel momento in cui ho studiato, e ci arriveremo più avanti, adesso non vi sto dicendo, vi sto semplicemente dicendo che cosa abbiamo fatto prima di iniziare del salto quantico e che risultati ci sono stati. Poi capirete bene tutte le conoscenze che ci sono dietro e andremo al tempo dei romani per capirle, e poi arriveremo qui al tempo di oggi per capire quale grande differenza si crea. Quindi nel gruppo Telegram spiegai di questa modalità che esiste in Telanda e ho detto anche a loro, visto che vi sta dando tanti risultati, fatele qualche offerta. Ma dove offerta può essere un incenso, una noce, un cibo, una meditazione che può essere rivolta a lei. Ho dato anche una musica che poteva essere utilizzata per le meditazioni, quindi le meditazioni invece di farle così a cavolo, le facciamo magari con la nostra aiutante in testa, con la musica della nostra aiutante e offrendo il nostro tempo, la nostra energia, la nostra meditazione. E così è accaduto. Tante persone che stavano facendo questo esperimento, quindi era un esperimento, la prima volta che si faceva una cosa del genere, stavamo sperimentando, eravamo circa mille e cinque nel gruppo. Non tutti l'hanno fatto ovviamente, molti, penso diverse centinaia, l'hanno fatto. E sai che cos'è accaduto? Lì sono cominciate ad accadere delle cose magiche. Magiche che non mi sarei neanche mai aspettato. Perché l'apertura del canale dei sogni fu facile, quella dal secondo o terzo giorno, i sogni fiorivano come non so cosa. Nel gruppo Telegram c'erano ormai centinaia di persone che si svegliavano e parlavano dei loro sogni sempre più chiari, sempre più facili da interpretare, sempre di più. Ma poi è accaduto una cosa che mi ha meravigliato. Eravamo solo mille e cinque. Non tutti lo facevano, quindi posso ipotizzare magari cinque, seicento stavano facendo questo esperimento, stavano facendo le loro offerte, dedicando il loro tempo, il loro amore, la loro passione. Quello che facevano offerte in qualche modo. E chiedevano la notte con il settaggio dell'intenzione. È successo che improvvisamente sono accadute cose alle persone attorno a loro. Questo perché te lo dico? Perché per una mente razionale potrebbe dire, sì, vabbè, hai dato il simbolo, hai dato la cosa, la gente è stata indotta, si è autoconvinta e quindi hai fatto accadere le cose. È un effetto placebo. Va bene, da brava mente razionale ti dico, bravo, ci può stare. Però, quando questo simbolo, con questo nome, con le offerte e con questa energia della nostra aiutante nel mondo invisibile, perché ricordiamoci che lei è la nostra aiutante nel mondo invisibile, noi non la vediamo, lo vediamo solo attraverso un simbolo. Ci affidiamo. Ci affidiamo, offriamo, la coltiviamo in qualche modo, e lei in qualche modo ci ringrazia. L'aiutante ci aiuta. E come ci aiuta? Facendo accadere le cose alle persone a fianco, che non sanno niente del gruppo, non sanno niente del Salto Quantico 2, non sanno niente di Daniele Penano. Se avessi voglia di andarti a leggere il gruppo ci sono veramente centinaia e centinaia, migliaia di messaggi, ma alcuni sono stati molto evocativi. Molto evocativi è, voglio leggertene un paio, due su tutti, perché questo fa capire come, Tiaris, nostra aiutante nel mondo invisibile per i sogni è la consapevolezza. Ricordiamoci, incubi e sogni sono la stessa cosa. Sogni, incubi, sono sempre dei sogni brutti. E consapevolezza, quindi lei ci aiuta a farci sognare, a farci avere la consapevolezza di quello che i sogni ci stanno dicendo. Ora, ti leggo due messaggi, perché questo ti fa capire che cosa è accaduto grazie alla nostra aiutante. Prendo il telefonino e lo leggo direttamente dal gruppo. The Wanderer è il nickname di questa persona, è una donna. Mi dice, per chi non lo sapesse, qualche giorno fa una persona che mi aveva fatto un grosso torto cinque anni fa, su una delicata questione ereditaria, mi ha fatto un bonifico di 20.000 euro di punto in bianco, in un momento della mia vita in cui non ci pensavo neanche più essendomi da tempo rassegnata al torto subito. È stato uno shock, perché non mi ricordavo nemmeno più di questo fatto, avendolo archiviato come qualcosa di irrisolvibile. Rendetevi conto? Ed un tratto questa persona mi ha fatto trovare i soldi sul conto senza nemmeno avvisarmi. Questo è accaduto dopo quattro giorni che avevo presentato Tieris, se ho dato la musica e ho dato il simbolo e il nome. Quattro giorni dopo. E ad un tratto questa persona mi ha fatto trovare i soldi sul conto senza nemmeno avvisarmi. E quando gli ho chiesto perché lo avesse fatto, non ha nemmeno saputo darmi una risposta chiara. Ma rassicurandomi che entro la fine dell'anno provvederà a darmi il resto della cifra che mi doveva. Quindi non solo gli ho dato 20.000, ma io devo dare altre tanti. E l'ha promesso che gliene avrebbe dati dopo entro l'anno. Se l'era completamente, se l'era messo il cuore in pace, The Wanderer, che questi non li avrebbe più visti. Stanotte, dormendo sopra le preziose parole che Daniele condivide con noi privatamente e pubblicamente, mi rendo conto di quanta verità... Poi fa un commento su di me, dice... Stanotte, dormendo sopra le preziose parole che Daniele condivide con noi privatamente e pubblicamente, mi rendo conto di quanta verità c'è nelle sue parole e nei suoi racconti. Grazie, The Wanderer. E di quanto siamo fortunati ad esserci trovati. Ad essere persone che, per quanto ancora in fase di miglioramento e liberazione e crescita, hanno orecchie e anima per sentire, recepire, accogliere. Ha ragione Daniele quando dice che è qualcosa che dobbiamo tenere ben stretto a noi. Non possiamo condividerlo con nessuno se non tra di noi, o diventeremo vulnerabili. E soggetti ad attacchi esterni. Quando si vive un'esperienza così meravigliosa, si vorrebbe urlarlo al mondo, ma questo mondo in cui siamo calati non è in grado di accogliere niente di niente. Nessuno ha più occhi per vedere, orecchie per sentire, anime da nutrire. Viviamo in un contesto di lobotomizzati dell'anima, che vorremmo aiutare ma non possiamo farlo direttamente. La strada più giusta è caricare, affidare tutto il bene possibile ad un invisibile catalizzatore della magia e dei miracoli. Chi ne avrà bisogno e sarà in grado di raggiungerlo riceverà questo bene a tempo debito. Se analizzo a mente fredda il mio miracolo, The Wanderer ha fatto una sua... avevamo parlato in privato, quindi qui ha messo un po' una serie di osservazioni che c'eravamo scambiati. Ma adesso ho qui la parte importante. Se analizzo a mente fredda il mio miracolo, mi rendo conto che il fatto di aver ricevuto quella somma ormai inaspettata di denaro, è stato importante ma irrilevante rispetto al vero miracolo. Sentite adesso. La persona che era in torto con me da cinque anni si è svegliata quella mattina con un'angoscia lancinante. Questi loro dopo si sono sentiti e gliel'ha spiegato. Quindi questa persona che ha fatto questo gesto, gli ha mandato i soldi dopo cinque anni che ormai le ha fatto sto torto. Si è svegliata quella mattina con un'angoscia lancinante dopo una notte di incubi che riguardavano l'ingiustizia che mi aveva fatto e come in preda ad una... in preda ad una... qui ha scritto illustrazione, forse è illuminazione, ha deciso di farmi quel pagamento per alleggerirsi l'anima. Si era reso conto che le angosce, i problemi che aveva negli ultimi anni erano legati ai sensi di colpa. E lo ha capito tutto d'un botto. Il vero miracolato è lui, non io. Racconto questo perché incredibilmente ieri sera lui mi ha chiamato, quello che da cinque anni non sentiva, lui mi ha chiamato per parlare del per chi avesse deciso di porre rimedio dopo tanti anni al torto che mi aveva fatto. Io non ci pensavo proprio più e anche lui coscientemente neanche se lo ricordava. Ma avendo un no dallo stomaco perenne a cui non sapeva attribuire un'origine e quella fatidica notte del 6 ottobre, poco dopo che avevamo iniziato l'esperimento, ha avuto l'illuminazione tutto d'un colpo. Mi ha colpito molto il suo racconto perché se ognuno di noi con ciò che stiamo facendo può anche solo salvare un'anima persa sarebbe già straordinario. Non riguarda solo noi, noi siamo solo una piccola chiave per aprire altre porte e dare una mano agli altri a diventare chiavi per aprirne altre. Non abbiamo bisogno di invocare i miracoli precisi. Io non l'ho fatto ma me ne è arrivato uno grande. Arriveranno da soli se saremo grati e presenti nella gratitudine. Daniele a volte ripete mi darete del pazzo. penseranno che sono pazzo. Di sicuro non noi. Che vediamo l'immenso che sta dando. È la verità che sta regalando. Si è prezioso Daniele io ce la metterò sempre tutta. Per essere regna grazie grazie grazie. Le parti finali a me insomma sono irrilevanti. Quindi capite questo primo miracolo. Questa persona di botto dopo 5 anni in preda degli incubi. Incubi che arrivano 4 giorni dopo che stavamo facendo le offerte e in qualche modo dall'invisibile. Questo qui viene illuminato sulla via di Damasco con degli incubi che l'hanno devastato. Questo si è svegliato dagli incubi e gli ha fatto il bonifico per alleggerirsi. L'ha chiamata e gli ha spiegato tutto. Non solo ma si è liberato di un'angoscia che aveva nel cuore da anni che lui non capiva qual'era. Questa può sembrare magia ma in realtà stiamo soltanto lavorando nel campo dei sogni e degli incubi e della consapevolezza. Esattamente quello che ha fatto. Gli ha fatto venire dei sogni che gli hanno dato consapevolezza. E tutto sembra quasi come per miracoli. E questo è uno. Vediamone un altro. Questo è il messaggio di Chiara. Chiara. Arriva credo 10 giorni dopo. Buonasera a tutti sono Chiara. Ho pensato fosse arrivato il momento di scrivere ciò che mi è accaduto. Sono con voi da una settimana e mi è successo un fatto che sa dell'incredibile. Ma siccome sa troppo di incredibile mi ci sono voluti un po' di giorni per raccogliere le idee. E' successo che domenica scorsa prima di dormire ho chiesto sogni vividi a Thiaris per poter capire come aiutare mio figlio a sbloccarsi nel parlare. Ha quattro anni. Intelligentissimo. Parla ma ancora fa fatica a fare discorsi corretti. Sembra come se fosse bloccato da qualcosa. Quella notte ho sognato dei fatti della mia vita che mi hanno fatto stare male, che hanno a che fare con il mio lavoro e con un amore passato. Al risveglio ho preso consapevolezza. Sogni e consapevolezza. A risveglio ho preso consapevolezza che sono degli eventi che mi hanno bloccato e che potevo aver trasmesso a mio figlio. Il lunedì ho visto mio figlio cambiato. Ho visto mio figlio cambiato più grande negli atteggiamenti e il martedì la logopedista mi ha detto che era un altro bambino molto più sciolto nel parlare. Questa è la mia esperienza. Ditemi voi se non ha dell'incredibile. Questa esperienza di Chiara è interessante perché lei ha avuto i sogni e la consapevolezza. Nel momento in cui si ha la consapevolezza questa libera la parte. Liberando la parte cambia nel mondo circostante. Quindi ha liberato la sua parte e ha liberato il bambino dello stesso blocco. Questo? Ora qualcuno potrebbe dirmi vabbè è stata una sua attenzione selettiva che l'ha visto cambiato. No perché gliel'ha detto la logopedista. Esperta di ciò. La logopedista gli ha detto oh ma che è successo? Cioè è cambiato. Che gli avete fatto? Quindi questi sono i responsi esterni. Questi sono i premi esterni. Questi sono i premi di coloro che si aprono. Che offrono. Che offrono ma nel senso non che dovete offrire. Cioè è qualcosa che fate per gratitudine. Qualcosa che fate con sentimento. Ripeto l'offerta deve essere fatta davvero dal cuore. Che può essere anche ripeto una meditazione. Un'intenzione. Un ringraziamento. Un incenso. Una candelina. Qualcosa. Qualcosa che vi fa tenere in mente è la nostra aiutante. È come se noi avessimo un aiutante a fianco e ogni tanto gli diamo attenzioni. Noi gliela diamo soltanto quando ci serve. Gliela diamo sempre. Ecco questa è l'immagine più semplice. Io mi immagino che ci aiuta nei sogni e nella consapevolezza sta sempre con me. Ed in realtà sta sempre con me nel mondo invisibile. Ma io non la vedo. Ecco perché c'è il simbolo e il nome. Perché così la possiamo vedere nel mondo visibile. Il mio simbolo è su un quadro e sulle schermate di computer del telefonino. Il suo e poi scopriremo anche altri aiutanti. Ed ecco che è come se avessi appunto una persona sempre con me ogni tanto gli do attenzioni. La gratifico. Gli faccio un'offerta. Gli offro un caffè. Esattamente uguale. Non è tanto difficile da capire. Solo perché non la vediamo non vuol dire che non c'è. Quindi immaginiamola come un amico immaginario. No, in realtà è un amico invisibile. Che è diverso. Perché l'amico immaginario ce lo stiamo immaginando noi. L'amico invisibile esiste nel mondo invisibile. E nel momento in cui esiste, perché ne abbiamo il risponso ufficiale dall'esterno, addirittura di esperti, a quel punto diventa molto più semplice rapportarsi con lei. E che cosa accade? Accade che più noi tratteremo bene questo amico invisibile, più lei ci darà una mano in quanto aiutante. Perché se il nostro aiutante lo teniamo in forza, sarà sempre più facile che ci aiuti al meglio. Esattamente come se ci portassimo, non so, un muratore a fianco e non gli dessimo da mangiare. Se non gli dessimo da mangiare, quello quando arriva che deve costruire casa stravacca per terra perché non c'ha le forze. Se noi invece lo teniamo in forze con le nostre offerte, quindi gli diamo da mangiare e lo nutriamo, quando deve costruire casa lui bello massiccio ci comincia a mettere i mattoni e tutto il resto e ci costruisce. Quindi ci aiuta in ciò che vogliamo. È esattamente la stessa cosa. Per la mente razionale può sembrare assurdo fare delle offerte a qualcosa che non vediamo, ma in realtà, se ci pensi, noi continuiamo a dare attenzioni a parti di noi che non vediamo, da sempre. Non vali, non sei capace, siamo costanti. Il nostro pensiero spesso è indietro nel tempo, in un tempo che è passato, in un futuro che deve ancora arrivare, raramente siamo sul presente e spesso parliamo di cose inutili. Giudichiamo, giudichiamo noi stessi, gli altri, ci preoccupiamo, abbiamo paura, abbiamo tutta una serie di cose che nella realtà non esistono. Le preoccupazioni cosa sono? Se non qualcosa che forse potrebbe stare un giorno, ma che oggi sta nel nostro mondo invisibile e noi lo nutriamo costantemente. Ma se proprio devo nutrire qualcuno del mondo invisibile, invece di portarmi la mia preoccupazione a fianco, preferisco portarmi Tiaris, che mi dà degli aiuti reali, che mi dà dei premi, che mi dà qualcosa che può servire a me seriamente, piuttosto che tenermi le preoccupazioni appresso. E dargli i caffè, i cioccolatini e i cornetti tutti i giorni, costantemente, dandogli da mangiare sempre. Diamo da mangiare a qualcosa che sia veramente utile, che ci possa aiutare. Nutriamo chi ci può aiutare, denutriamo chi ci può danneggiare. Questo è fondamentale. Il mondo invisibile lo conosci perfettamente, perché la tua testa vive nel mondo invisibile. Vive di qualcosa che non esiste. Pensa in astratto. E allora, se proprio deve pensare in astratto, se proprio deve pensare all'invisibile, pensiamo e nutriamo un invisibile che ci aiuta, invece che un invisibile che ci danneggia. I nostri pensieri negativi ci danneggiano. I nostri aiutanti ci aiutano. Non lo dico io. Lo dicono centinaia di persone che hanno seguito questo esperimento, che ancora stanno continuando a farlo, e che continueranno a farlo, e che dopo 4, 5, 6 giorni hanno già avuto dei responsi di persone pazzeschi. Non ti nego che questo ha meravigliato anche me. Questi sono solo due, perché di responsi di persone attorno, che hanno avuto dei fenomeni diversi, ce ne sono centinaia. Questo può essere identificato come l'effetto Maharishi. Ricordiamo l'effetto Maharishi. Maharishi oggi, diversi anni fa, fece questo esperimento a Washington DC, mise 4.000 persone a meditare per una settimana, e la sua scommessa era, la sua convinzione era, che avrebbe resa più buona l'intera città di Washington DC. Il sindaco si mise a ridere, fece pure le battute, lo prese un po' in giro. Ebbene, in quella settimana 4.000 meditatori che puntarono la loro intenzione su questo, per un'intera settimana, 4.000 solo, solo 4.000, resero più buona l'intera città. I crimini violenti diminuirono del 25%, 25% in quella settimana, non stiamo parlando di 1 o 2 che può essere un caso, 25%. Cioè ci sono stati 1 su 4 in meno di stupri, di rapine, di uccisioni, di violenze, di tutto, non solo, ma diminuirono anche tutti gli altri furti, furtarelli, tutto. Cioè i crimini diminuirono tutti del 25%, quindi la gente diventò più buona. Allora, io lo chiamo effetto Maharishi. 1.500 persone in un gruppo che cominciano a ragionare su un'unica direzione, usando degli aiutanti nel mondo invisibile e nutrendoli, rendono più buone non le persone in una città, ma le persone attorno a loro, i loro più stretti congiunti, o le persone nel lavoro, le persone nella classe, o le persone, i parenti. Questo è accaduto. Quindi amici miei, se solo con 1.500 persone in un gruppo all'inizio dell'esperimento abbiamo realizzato l'effetto Maharishi, che cosa potrebbe accadere se un domani fossimo 10.000 o 20.000 o 30.000 a fare la stessa cosa? Prova a chiedertelo. Potrebbero crearsi dei veri e propri miracoli, dei veri e propri miracoli. Ma per i miracoli e per la magia ci stiamo attrezzando, come diceva qualcuno, e anche per la magia e i miracoli avremo la nostra aiutante. Magia e i miracoli è qualcosa che diventerà una conseguenza, come diceva Einstein, quando spiritualità e razionalità si uniranno, accederemo alla magia. Per la magia e i miracoli, quindi qualcosa di molto più ampio, avremo un aiutante molto più grande. Il suo simbolo è questo qui, lo vedi dietro di me. Il suo nome è Oaris e anche lei ci aiuta nel mondo invisibile. Ma di questo parleremo più avanti. Un aiutante per volta. Quindi amico o amica mia, questo è quello che avevo da dirti oggi. Che tu ci creda o no, abbiamo bisogno di aiuto. Che tu ci creda o no, gli aiuti nel mondo invisibile stanno dando dei responsi estremamente visibili. Che tu ci creda o no, è l'unica vera differenza tra far accadere i miracoli solo agli altri o permetterti di farli accadere anche a te.